Vien da ruttare! Oggi parliamo di qualcosa di pazzesco! To slide into someone's DMs To slide into someone's DMs Prendi di tutto DMs, magari lo sapete già, direct message Come per esempio quando mi scrivete a me in privato su Instagram Quello è un direct message To slide into someone's DMs vuol dire Mandare un messaggio privato a qualcuno a cui non lo si era mai fatto Magari qualcuno vede la pagina Instagram di qualcun altro E si innamora solamente dalle foto Cosa succede? Che questo o questa invece che continuare a commentare A mettere like sulle foto dell'altra persona Decide di slide into her or his DMs Cioè di finalmente mandarle o mandargli a lui un messaggio privato È ovvio che il 99% dei casi Questo slide into her DMs or his DMs Ha un secondo fine Cioè è ovvio che non ti scrivo solamente per dirti Ciao, quanto sei bello, quanto sei bello Il mio secondo fine è conoscerci e uscire con te Quindi to slide in... Aia! Quindi to slide into someone's DMs Vuol dire Scivolare e infilarsi nei messaggi di qualcuno Cioè mandare un messaggio privatamente Iniziamo a dire Grazie a tutti.